è dura cambiare casa sulle cui mura sono impresse emozioni esperienze ed avvenimenti tuttavia è normale che vada così cambiare casa significa cambiare abitudini spazi ritmi e stili di vita ma significa anche mettersi in gioco perché qualcosa nella nostra vita sta mutando significa accogliere nuove sfide emozioni ed opportunità ci sono tanti episodi nella nostra vita che possono indurci a cambiare casa per esempio hai bisogno di più spazio la famiglia cresce e serve una stanza in più vuoi semplicemente cambiare aria trovare nuove esperienze incominciare una nuova vita in una città diversa da dove sei nato spesso il cambio città è legato a fattori lavorativi che hanno fatto un'ottima offerta di lavoro in un'altra città e vale la pena cambiare casa ti rendi conto che la tua casa manca di alcune comodità che prima non sentivi necessarie un piano con ascensore la vicinanza di negozi o supermercati un garage per l'auto nuova un giardino o comunque uno spazio privato all'aperto hai un vicino di casa da incubo musica alta litigate urla di bambini e ci si mette pure il cane che abbaia tutte le ore hai da anni in mente la casa dei tuoi sogni se hai finalmente le risorse economiche per fare questo cambiamento è il momento di agire una bella casa in campagna con tanti animali una casa vicino al mare una fantastica villa con piscina regalati la casa che hai sempre voluto noi di regasi immobiliare siamo pronte a darti il giusto supporto nella tua compravendita e soddisfare le tue nuove esigenze